Il processo di appello si è tenuto, la pena all'imputato è stata ridotta ma la famiglia della vittima, parte civile nel procedimento, lo ha saputo solo tre anni dopo e grazie al presidente Mattarella. È l'ennesima triste ingiustizia che ruota attorno alla tragica morte di Maria Dorotea Di Sia, la giovane di Policastro scomparsa nel 2014 in un incidente stradale sul lungomare di Bisceglie. È stato il presidente Mattarella a comunicare in questi giorni ai genitori che il processo di secondo grado si era già concluso nel 2018 e che la persona alla guida dell'auto schiantatasi contro la carreggiata Pantaleo Daddato era stata condannata a due anni di reclusione. Un'informazione che ha lasciato completamente disorientata la famiglia di Maria Dorotea. Eravamo infatti rimasti alla condanna in primo grado a tre anni di reclusione per Daddato e alla battaglia dei genitori della giovane per vedere aperto il processo in appello e una rideterminazione della pena. Nel corso degli anni i genitori di Maria Dorotea, Pietrina Paladino e Donato Di Sia non hanno mai desistito rivolgendosi a tante autorità per vedere realizzato il loro sogno di giustizia ma in vano. L'ultima occasione un paio di mesi fa quando Donato ha deciso di scrivere al presidente Mattarella. A stretto giro è arrivata a sorpresa la risposta. Rinnoviamo vicinanza e partecipazione al dolore per la tragica scomparsa di sua figlia, si legge nella lettera. Da informazioni assunte risulta che la Corte d'Appello di Bari, investita dall'impugnazione, il 9 luglio del 2018 ha dichiarato l'imputato definitivamente responsabile dei reati, condannandola alla pena di due anni di reclusione. Una notizia che ha sorpreso la famiglia e addolorato anche per la riduzione della pena al responsabile del sinistro. La sentenza non è stata impugnata da nessuno e quindi ormai da due anni è diventata definitiva. Mia figlia non tornerà più, ha detto Pietrina Paladino, mentre chi guidava quell'auto è stato riabilitato e ha ripreso la patente. È scandaloso che noi che ci siamo costituiti parte civile non ne abbiamo saputo nulla. Non ci fermeremo qui però, cerchiamo ancora giustizia per Maria Dorotea.